ciao allora nel video di oggi direi che scopriamo assieme la beauty box di look fantastic che è un sito online ovviamente che venne tantissimi marchi di prodotti e fa anche comunque le beauty box ed sono famosissime sinceramente non ne avevo mai provate hanno gentilmente pensato di inviarmene una e così la proviamo insieme e vediamo anche cosa contiene prima di iniziare a vedere insieme che comunque bellissima anche la scatola è molto carina e bella grande mi sono segnata sul foglio un po di cosine da dirvi se per i prezzi per le promozioni per le informazioni tutto allora ho guardato e fanno vari tipi di abbonamenti allora c'è quello con la box singola quindi quella da un mese che viene 20 euro la box e attenzione però perché la spesa di spedizione è gratuita per ordini superiori ai 25 euro quindi per avere la spedizione gratuito dovete aggiungere un altro prodottino anche se no c'è l'abbonamento a tre mesi che andate a pagare ogni mese la box a 18 euro e l'abbonamento quello a sei mesi anche sei mesi che andate a pagare 17 euro oppure 12 mesi quindi un anno un mese che costa 15 euro e 50 quindi è anche vantaggioso allora con l'abbonamento è a più mesi quindi 3 6 e 3 6 12 e la spedizione è sempre inclusa quindi solo quello da un mese che 20 euro la spedizione previa da gratuito dovete aggiungere qualcosina però mi sembra una cosa interessante da fare per test tre mesi tre o sei mesi credo che siano le più vantaggiose se già non la conoscete altra cosa che vi devo dire perché ho segnato tutto l'abbonamento si rinnova quindi fate quello a tre mesi sei mesi 12 mesi e l'abbonamento si rinnova in automatico almeno che non lo cancellate voi ma ho visto ho sentito anche date ragazze perché non conoscendo il sito ho sentito anche delle varie ragazze che invece fanno questo abbonamento ed è facilissimo perché andate nel vostro account direttamente c'è la sezione il mio abbonamento e da lì lo potete disdire cancellare o rinnovare cancella o rinnova quindi è proprio facilissimo ma hanno detto anche loro cos'altro ho per voi una promo che vi lascio qui nell'info box la promo ecco vedete il codice e vi dà diritto a 10 euro di sconto sul vostro primo ordine e mi sembra ottima come cosa cosa che mi sono segnata da dirvi perché me l'hanno fatto notare le ragazze in giro online che spessissimo look fantastic anzi direi sempre a delle promozioni online però attenzione perché da queste promozioni che hanno loro le beauty box sono sempre escluse però ad esempio possono essere interessanti da dire prendo quella da un mese quindi sono 20 euro però devo arrivare a 25 per e aspettazione gratuita vediamo con la promozione cosa ci può essere è una cosa interessante adesso direi basta questa box è ancora chiusa e andiamo a vedere cosa contiene è proprio ancora chiusa la prima cosa che notiamo è le istruzioni il foglietto ah questa è la box di febbraio di amour edition la box di febbraio ok quindi non è uno spoiler perché la box che c'è già stata e sì però bello libricino anche dalle a per ora le prime pagine penso che what is the box si che vi spoiler tutti i prodotti quindi se non volete spoiler arveli non leggete le prime pagine poi spiega anche come però ci siamo già spoilerate a questo punto noi va bene e poi parla anche gli altri prodotti non so c'è tutto dentro adesso è inutile prima guardiamo poi guardiamo libricino perché è meglio allora la box si presenta così quindi adesso andiamo ad aprirla bella ma è bella e vediamo che cosa contiene allora allora ok ho visto dal libricino solo le prime pagine altra cosa che vi vorrei dire da questo libricino molto simpatico è che tutto in inglese completamente è abbastanza facile da capire ma già da così vedo che è in inglese e google traduttore con le smartphone fotografate con google traduttore e ve lo traduce in tre secondi ma comunque è abbastanza chiaro quindi solo questi prodotti agli altri spiega solamente come usarli o cosa sono e poi altri prodotti forse quelli che vendono loro sul sito effettivamente urban decay ho visto to face benefit vichy ho tutti i marchi che vendono anche loro quindi ok beh carino anche da leggere questo libricino ah e nell'ultima pagina c'è una spoiler spoiler di che cosa ci potrebbe essere no di che cosa ci potrebbe essere di che cosa c'è sicuramente nella box del mese dopo in questo caso di marzo però penso che l'abbiate già visto altra cosa che ho visto che però dovrei controllare perché ah no no è giusto è giusto perfetto così allora possiamo possiamo anche avere un'idea del valore perché nell'inglese è sempre scritto però c'è anche il valore del prodotto quindi pensavo fosse ad esempio per un prezzo pieno però parla di esempio questo di 15 ml quindi dice il valore bene perché così guardiamo il valore finale dei prodotti anche se sono in le sterline fa lo stesso allora iniziamo a guardare i prodotti che ci interessa un po di più il primo che teniamo fuori è questa project clip mask prep the put idratante con collagene infuse mask quindi una maschera per le labbra la sento bella rigida e allora a questo punto andiamo a leggere nelle informazioni e dice che il valore è di 3 sterline e 95 pound lasciare in posa 15 20 minuti interessante poi vediamo altra cosa perché l'avevo vista e mi interessa questa è una spugnetta per il trucco brushworks hd wonder una spugnetta per il makeup e a questo punto io sono stracuriosa di vederla ma è bella allora ha la forma della real technique che a me piace molto ed è morbida mi piace è morbida più o meno come la beauty blender quindi mi può piacere e senza stare a fare ok senza stare lì a guardare guardiamo il valore che dice di essere 5 e 49 interessante su questa parte della spugna ad esempio c'è tutte le istruzioni su come usarla anche qui è proprio un libricino da leggere interessante andiamo avanti prendo io così filorga è un buon marchio meso mask mask alisciante illuminante la confezione è un 15 ml scusate la mostro anche a voi ok e andiamo a vedere dice di 12 e 60 lasciare agire 15-30 minuti oh la filorga è un buon marchio certo è guardando un attimo non so con le luci provo ad avvicinarmi se lo vedete anche voi comunque con le luci vedo che il prodotto è fino a qui quindi non è proprio piena 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 questo dobbiamo dirlo però andiamo avanti perché vi ho ancora tre prodotti e ci interessano questo che è bellissimo il pack espa natural beauty andiamo a leggere che è meglio espa ha detossinante body oil quindi un olio per il corpo detossinante il profumo è buonissimo ma è qualcosa di naturale perché il profumo è buonissimo quindi questo è un 15 ml esatto è un 15 ml e dice di essere 5 sterline interessante il profumo è buonissimo poi ultimi due prodotti che è questo che mi piace tantissimo la confezione sembra in finto legno della Now Buy Natural Organica Origin Gentle Facial Toner Tonico Viso Anti-età mi piace tantissimo buono mi piace tantissimo il pack questo è un 125 ml vediamo le istruzioni ho ancora sul naso l'odore di prima di questo olio è fantastico è qualcosa di delicato fiorito fantastico ma adesso torniamo al Now Buy Tonico Viso ok dice 125 ml 12 sterline e 50 quindi questo è un full size perché 125 ml è un full size interessante ultimo prodotto perché poi prendo questo e la box è vuota piccolissimo bellissimo sinceramente da qui non capisco che cos'è quindi il Lamasca uh ci interessa vediamo un po' è un mini lipstick del colore no anti-matter nel colore non c'è scritto da sopra ah anti-matter lipstick bang bang è un 2 grammi bellino è piccino è un nude però bello ci piace è piccino da borsetta poi il Lamasca ragazzi il Lamasca e guardavo 2 grammi hanno detto 10 sterline mamma mia quanto costa il Lamasca ok e quindi a questo punto la box è vuota ma è bella anche la scatola ed è considerazioni finali interessanti i prodotti perché abbiamo qualcosa per il viso per il corpo per il viso abbiamo anche la maschera viso della filorga che è filorga e abbiamo anche il pad per le labbra che sembra interessante anche questo poi abbiamo 2 prodotti quindi 4 prodotti per il viso e 2 prodotti per il makeup quindi la spugnetta che mi interessa alquanto perché sono proprio curiosa di provarla e questo mini lipstick adesso io a questo punto fermo il video perché devo andare assolutamente a guardare il prezzo vero dei lipstick e della maschera se costano così tanto quindi un secondo allora eccoci sì sono andata a guardare ed effettivamente ho cercato sul sito proprio l'illa maschera e lo stesso colore quindi il bang e viene 20 euro e 40 quindi la mini size a 10 sterline sì ci sta quindi ok possiamo fare una comparazione del prezzo effettivo anche se qui dice sterline non dobbiamo considerare euro fa un po' la differenza però proviamo un attimo a guardare quindi abbiamo detto che questo prodotto l'espa che è l'olio che io mi riannuso perché fantastico l'olio corpo è da 5 sterline aspettate prendiamo anche la calcolatrice così sono più brava 5 poi abbiamo la spugna per il trucco a 5,49 quindi più 5,49 poi cosa abbiamo il rossetto dell'illa masca che abbiamo detto che è a 10 quindi più 10 sto leggendo poi la maschera della filorga la meso mask che è 12,60 12,60 poi cosa ci è rimasto ah sì questo è il tonico viso che è un 3,95 e per finire la no scusate il tonico viso è a 12,50 la maschera non so neanche leggere la maschera 3,95 il tonico viso 12,50 quindi adesso aggiungiamo 12,50 sembra poco e quindi sono 49,54 sterline quanto equivale in euro? non lo so non ho la minima idea Google allora grazie al mitico Google Convert vi posso dire da computer che sono 57,56 vi ricordo che la box costa 20 euro quindi ci sta un bel valore un buon valore una buona buoni prodotti anche interessante per trovare dei prodotti nuovi delle marche nuove ad esempio questa che Now Buy io non ho mai sentito ma soprattutto sapete che mi sono innamorata l'espa l'olio ha un profumo spettacolare e adesso basta voglio sapere i vostri commenti se vi ha incuriosito questa box se ne conoscete qualcuna perché la look fantastic l'ho sempre sentita parlare e ne vedo spesso pubblicità su facebook su instagram ma non avevo mai badato però magari ne esistono altre di box non lo so ed è basta smetto di parlare e fatemi sapere nei commenti intanto se vi è un po' interessato se qualche prodotto lo conoscevate quale vi intriga di più e soprattutto lasciatemi un commento mi raccomando perché sicuramente alcuni di questi prodotti andranno nel regalino che periodicamente faccio per voi se non sapete di cosa parlo aspettate la fine del video tra poco e lo saprete e niente smetto di parlare vi ricordo il codice sconto che non è affiliato quindi io non guadagno niente da questo codice però meno 10 euro di sconto sul primo ordine è interessante e al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrago ogni mese ciao